Tre commissioni consigliari, ambiente, bilancio e sviluppo economico in visita a Timpazzo per dissipare ombre e dubbi sul mancato avvio del servizio rifiuti in house dopo lo scaricabarile con cui il sindaco ha provato a addossare esclusivamente alle impianti SRR la mancata chiusura dell'accordo con la stessa impianti che ha rimandato le accuse al mittente. I consiglieri hanno così deciso di avere più elementi e hanno ascoltato in audizione il manager di impianti SRR, l'ingegnere Giovanna Picone, che non ha potuto far altro che confermare quanto più volte ribadito nelle scorse settimane. Ad oggi manca il contratto attuativo e l'emergenza finanziaria del municipio non aiuta di certo il percorso già molto tortuoso. Il primo cittadino ha riferito delle procedure ancora in corso per le assunzioni e del parco mezzi non completato, elementi ampiamente smentiti però dalla stessa Picone. Il 70% dei 109 mezzi per il servizio di Gela sarebbe già stato acquistato e pagato mentre la gara dei Mastelli è stata già giudicata. Inoltre le procedure concorsuali per l'assunzione di 139 dipendenti sono state avviate e si concluderanno entro 60 giorni. Non sappiamo esattamente che tempi si prevedono, tra l'altro noi abbiamo necessità a questo punto di sapere noi un cronoprogramma reale di quando loro saranno nelle possibilità di poter firmare perché abbiamo già avviato ancora di più l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature, siamo già ad una percentuale quasi al 70% dei mezzi. Inoltre oggi abbiamo depositato il ricorso per la proroga per il 191 quindi in questo momento diciamo forse sarebbe necessario che a noi dessero più chiarezza da parte del comune di Gela per capire un po' come muoverci. Il sindaco Lucio Greco però ha appena concesso una nuova proroga a Tecra fino al prossimo maggio in attesa di poter dare il via alle attività affidate invece all'inaus impianti SRR ma i tempi stringono. Loro hanno una proroga fino al 31 maggio quindi verosimilmente i 90 giorni si dica che noi entro questo mese dovremmo definire tutte le procedure cioè essere in condizione di poter mettere una firma e quindi il famoso punto zero farlo partire da fine mese. Non so adesso i tempi che loro avranno bisogno tra l'approvazione, il bilancio, la determinazione delle tariffe che cosa che tempi gli prenderà però voglio dire se invece di tre mesi dovessero essere due mesi e mezzo noi ce la metteremo tutta per venire incontro all'esigenza del comune. L'incontro a Timpazzo è servito ai consiglieri per fare chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto ma i dubbi su quando e se il servizio verrà avviato rimangono. I dubbi restano sostanzialmente quello che si voleva chiarire se SRR nonostante non ci sia un preliminare di contratto ha impegnato delle somme e è pronta a partire e sembra almeno dalla dichiarazione dell'ingegnere Picone che 70% dei mesi sono già stati contrattualizzati e sono in fase d'acquisto quindi diciamo che a tre mesi alla stipula del contratto la dichiarazione è che sarebbero in grado di partire e questo è il primo dato che ci interessava capire. Poi quali saranno i termini, quale sarà la copertura finanziaria e quant'altro questo si vedrà lungo il percorso. Ci preoccupa fondamentalmente la solita questione, la questione che riguarda la questione finanziaria che ad oggi è irrisolta e che comunque va a determinare una serie di ulteriori preoccupazioni su molte altre questioni tra cui anche la questione del servizio o di gestione di rifiuti. Dubbi rinfocolati anche dal rischio dissesto ancora incombente che potrebbe creare ulteriori ritardi a una situazione già complessa di suo. Abbiamo chiesto quale potrebbero essere le conseguenze su un possibile dissesto nella nostra città, visto che comunque ci sono delle spese messe in bilancio da dover utilizzare e visto che è uscito anche un bando per l'assunzione di nuovi operatori ecologici. Questo porterebbe sicuramente delle conseguenze e quindi noi oggi abbiamo chiesto questo per tutelare sia gli operatori che soprattutto la città. La impianti SRR nel frattempo ribadisce di essere pronta a partire in tempi brevi ma non nasconde le preoccupazioni. L'unica mia preoccupazione in questo momento è relativa alle procedure concursuali perché noi siamo già in fase di preselezione, pensiamo di qua a due mesi di dover avere già una graduatoria e quindi da un lato ci auguriamo che si parta col servizio di Gela con le assunzioni già fatte, dall'altro speriamo che questa cosa non debba creare problemi perché comunque è gente che confida in questo contratto a tempo indeterminato.